Che regalo vorrebbe ricevere per i suoi 101 anni? Più interesse e sostegno per la ricerca nel nostro paese. Lei ha sempre sostenuto che il capitale umano, che i giovani ricercatori sono un tesoro dell'Italia? Mai l'Italia si è reso conto di questa ricchezza di capitale umano che abbiamo, supera quella che io, che sono tanti anni all'estero, ho visto. Insomma, l'Italia è ricchissima del capitale umano, non di altro capitale, ma non l'ha mai valorizzata. Sono enormemente grata per quel che voi avete fatto e continuate a fare tutto. Grazie.